La Wilke ha deciso di essere protagonista in Europa non perché ce lo chiede l'Europa, ovvero Angela, ma perché con una visione prospettica ha deciso di scendere in campo per contribuire a creare l'Europa sociale e a influenzare i processi di produzione normativa europea che volenti o nolenti dobbiamo poi subire. I comitati aziendali europei restano ad oggi l'unico strumento in democrazia in un'ottica bottom-up che permettono ai rappresentanti lavoratori di influenzare le scelte strategiche delle multinazionali. In un settore come il nostro, caratterizzato dalla presenza crescente di capitali stranieri, di padroni stranieri, diventa strategico formare delegati che possano compiere il loro mandato appieno. Qualcuno ha detto negli interventi che mi hanno preceduta che ci sono 15 giorni per studiare i piani industriali, ovvero c'erano. Oggi le linee strategiche dei piani industriali vengono definite a centinaia di chilometri di distanza dal nostro paese, in una lingua che non è l'italiano e molte volte non abbiamo nemmeno i 15 giorni per poter influenzare quelle decisioni prese così lontane da noi. Accanto alla necessaria formazione tecnico-normativa vanno definite le linee guida politiche che diano indicazioni su come operare alle donne e agli uomini della Wilka che faranno parte dei comitati aziendali europei. Il tutto è inserito in un collegamento sistemico triangolare, delegati, categorie, confederazione. I CAE sono organismi di rappresentanza che non hanno nella loro natura l'attribuzione a negoziare accordi su materie oggetto della negoziazione nazionale. E proprio in tema di contrattazione transnazionale il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione il 15 settembre dell'anno scorso che attribuisce ai CAE un ruolo fondamentale di supporto, ma gli attori legittimati a negoziare sono le federazioni sindacali europee. E nel nostro caso, per effetto della trasposizione della direttiva europea sui CAE, anche le confederazioni nazionali. Ci sono stati tentativi di negoziare accordi in ambito CAE nel nostro settore senza il coinvolgimento delle federazioni sindacali, né nazionali né internazionali. Accordi che avrebbero indebolito le negoziazioni nazionali e che avrebbero creato un precedente pericoloso. La nostra organizzazione ha vigilato e ha ricondotto le negoziazioni sui corretti binari. In molti comitati aziendali europei siedono i rappresentanti e i lavoratori che non sono sindacalizzati. Non possiamo prenderci il lusso di lasciare nelle mani di queste persone la negoziazione. Molti CAE, è vero, hanno negoziato delle dichiarazioni congiunte senza il coinvolgimento delle federazioni, ma sono dichiarazioni congiunti su tematiche di responsabilità sociale d'impresa. Quindi in quei casi sono sempre dichiarazioni sugli intenti e non vanno a toccare quelle che sono le tematiche della negoziazione nazionale. Abbiamo due cantieri importanti che stiamo seguendo. È in atto un processo di armonizzazione di tre direttive in materia di informazione e consultazione, sul quale occorrerà porre la massima attenzione per bloccare il tentativo della Commissione europea di degredare i diritti dei lavoratori europei. Inoltre, lo scorso 15 aprile, il Parlamento europeo ha approvato la modifica della direttiva 2013-34 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, sociali e ambientali ed informazioni sulla diversità da parte di taluni imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Sostanzialmente, le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 o che hanno più di 40 milioni di euro di volume di giro d'affari, sono circa 6.000 le aziende coinvolte e in queste 6.000 ci sono quasi tutte le nostre banche e assicurazioni. devono includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Per le imprese che non applicano queste politiche, la dichiarazione di carattere non finanziario dovrà fornire una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta. Le multinazionali avranno anche la facoltà di presentare questa relazione solo nel paese della casa madre. Quindi diventa importante formare i delegati ai comitati aziendali europei che dovranno poi verificare e analizzare queste informazioni. L'Italia ha un ruolo importante in questa partita. Occorre rompere l'asso franco-tedesco che ha influenzato negli ultimi decenni il quadro normativo europeo e che oggi vive una crisi di identità del sindacato. Purtroppo i nostri compagni francesi e tedeschi, che hanno tanto paventato la loro grande tradizione sindacale, in questo momento hanno delle grandi difficoltà. Noi ci siamo come categoria e come confederazione e faremo sentire la nostra voce. Il contesto nazionale, con tutte le problematiche dibattute in questi giorni, a partire dal nuovo modello di banca, è frutto anche di queste politiche europee e delle strategie delle multinazionali che vogliono azzerare i diritti dei lavoratori per creare un'epoca di nuovi schiavi. Cambiamo lo slogan, ce lo chiede l'Europa, e noi chiediamo l'Europa, la Wilka chiede l'Europa, la Wilk chiede l'Europa. Grazie.